ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su among us insieme a un ritorno cioè riguardo all'età della pietra del mio canale ok bella a tutti ragazzi credo che da quanto è che non facevamo un video cioè abbiamo fatto uno poi un altro e poi boh non è morto non è morto ok allora facciamo una partita su among us lui vedo che ha già cominciato e dimmi il codice ok ok m ok z ok ok è un po c'è la connessione buona oppure sempre partita con quattro persone ok velocità super sonic vuoi abbassare no ma va bene va bene va bene se non mi da fastidio no 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 ok ok va bene va bene preferisco essere sonic e ci vediamo quando lo starto taglio ok bene si parte vai ragazzi ci siamo ok si pareva ok ok vai 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 starta 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 hai si è fatto male quello ok direi di procedere ma perché mi guardi non è che sei te l'impostore ma ti è scritto impostor era grosso c'è scritto grosso buona casa ok ho finta di niente ma perché in live sono così forti ma perché lo fai perché vai ste cose ma cosa è scritto questo è arabo questo è arabo cioè cos'è ma anche i giapponesi egiziano turco aramaico ma non è giusto ok ok evita ste cose che come scisse bene che arrivi qualcun altro bu vabbè ciao ok nuovo giro nuova corsa stavolta non è che sei te l'impostore stavolta ma che guarda basta adesso ti chillo dove sei dove sei che ti chillo puoi andare dove vuoi eh basta 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 è l'unica chance di cosa per amazzare non ci credo la 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 ma perché non ma come si fa e devi scrivere il codice che c'è scritto sul foglio peccato che hai perso a posto ma come hai fatto? non ho scritto ho fatto finta ho fatto finta poi se arrivava qualcuno io scrivevo il codice strategia segreta dell'agenzia inizia ok a dopo ok si starta devo tu mettiti girato girato no mettiti girato ok non sono io se lo dico io non parlo ok vediamo un po' non parli eh suspect ok guarda che sono veloce a completare le task eh non mi sottovalutare ok a posto ok allora non parli mmm quasi quasi ti voto mi riprimati se c'hai il tasto? sei tu come fai? ti ho beccato ti ho beccato ti ho beccato ti ho beccato sappi che già sapevi che i greci sono mia nonna vediamo un po' chi si aspettano eh come si dice arancione? no orange blu si dice ma non puoi scrivere niente? no nascissima fatelo fuori comunque non sei... aspetta un attimo blu kill green dai blu kill green blu kill green vuota arancione perché non vuota? not me mamma mia come ti sei difeso bene come ti sei difeso bene not me blu 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 si nooo no l'agenziana non sbaglia mai l'agenziana non sbaglia mai vabbè io volevo uccidere te ok basta fare i terremoti si però girati che quando sono io non ti posso vedere ok lo giuri che lo dici no mica lo dico no e non vale sono impostore si si dai dai avanti oppure oppure sto collaborando con l'impostore davide perché ti sei avvicinato? si intanto nominami perché ti sei avvicinato? dai perché ti ho scoperto? ti ho scoperto! ok blu 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 sus davi guarda che non sono io fa vedere ti faccio vedere anche io che non sono io ma fa vedere po e cosa pensavi? allora o queen o gemel gem ok queen 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 votiamo white dirmi che sei tu no non sono io non sono io e vota managissima white not me nooo 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 ah ah era il bianco ah si hai detto la verità vedi io la dico la verità a parte quando sono impostore cioè impostore secondo te vado a dire sono io sono io ok 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 eh bene nuova partita non facciamo ci vedere e ci sei già sospetto perchè non ti sei fatto vedere uh perchè tu ti fai vedere ah aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo voglio vedere se sta ma è appena salita la barra delle tasche o no? si ok allora non è lei chi? è quella rosa è quella rosa? no 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 perché ha fatto la task no secondo me è quella rosa e tu come fai a vederla? allora ho visto che non stava facendo fake task what? e che è una fake task? allora queen oh ho sentito ho sentito sei tu 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 blue kill in front off me ma cosa dici che hai neanche 30 metri di distanza? vabbè non importa così ti votano mi hai 30 metri di distanza e sono sentito votatelo votatelo hai sentito l'umore è lui è lui è lui si sono lì no dobbiamo votare hanno votato te hanno votato te ma perchè? hanno votato te quello sta collaborando quello sta facendo le collab niente collab si no questo qua proprio già aspetta aspetta qual è il codice mio? mi hanno espuso intanto lo guardo va bene taglio ok si start let's go non lo guardo non lo guardo non lo guardo non lo guardo ma è il codice mio è tutto non lo guardo Ehi tu Ho ventato per sbaglio Non volevo ventare Ok qual è il codice? Q M O Z H F Ok perfetto No perché ho ventato per sbaglio Volevo sabotare ma ho ventato E quindi ho sbagliato Vabbè Sono cose che capitano No volevo sabotare ma Invece ho usato la vent L'unica task che non si può fare Velocemente è questa Davide mi sei inseguita da mezz'ora Davide mi sei inseguita da mezz'ora Lascio che ti insegua Ma Ma grazie Ehm Andiamo con il giallo qua Ecco Dov'è il giallo? E' in elettrica In elettrica Sei tu! Perché? Perché non c'è nessunissimo giallo E il giallo se n'è andato quindi Davide Blu Ma Davide io non sono No non lo sei Ti giuro Ok Come fai a A dimostrartelo Come faccio? Eh? Come faccio a dimostrartelo? Perché non sono io Se no te l'avresti già sentito Il toc Avresti sentito il toc Non mi fai vedere che sei il crewmate? Guarda Come fai? Sei tu Ci credo Allora è rosa Rosa Ma clicca il pulsante Che vuoi farti ammazzare? No Perché io li azzec Davide le tasche Davide le tasche Ok No dai Davide le Si vuole dire Se c'è il pulsante Eh non posso L'ho già schiacciato Vai a schiacciare te Ma non posso Ma perché? Perché c'è lui davanti Davide le tasche Davide le tasche Eh come faccio? Si si Avanti pink Mi sia sei te veramente Ma sei visto? Ecco ti sta accusando per primo Pink Eh se sei te veramente Ma sei visto? Aspetta ora lo trollo Ora ora Vota blu E tu scrivi ok E poi voti il rosa Scrivi ok E poi voti il rosa E dai perché non voto? Che d'olta Sì Sopra sì No no perché? Genziana non è mai l'impostore Sì No è mai Aspetta prima sette volte Dai facciamo ancora una partita Perché? Perché ci sono già 14 minuti di registrazione E' di poco Mamma mia Ok dai Vediamo un po' Se arriva qualcuno Ci vediamo dopo No ma c'è me ancora D'olta Ok è arrivata Sara Sara Anna I don't understand Ma di che nazionalità è Sara Anna? È Calla Ti ha buttato fuori? Sì Perché? Ma tu lo sai? Bu Sì Sì Sono io Senti Cosa? Cosa? Per capire che non sono io E come vai? Senti E te? No Abbiamo perso Abbiamo perso Aspetta ho sbagliato Ho sbagliato il codice Come si fa ad aprire? La cara non fa più rumore L'agenziana L'agenziana non è mai il pastore No Per niente Perché dici che ti butta fuori Invece non è vero? No Non è che l'ha buttato fuori Che sembra tutto lui Ma perché tutti sti nomi Saran Ma che razza di roba sono? Sono arabi, tedeschi Come si dice? Jamaicani Jamaicani Vuol dire perché saranno della Jamaica Ma anche i cani Bravo Hai capito? L'invenzione di Mr. Gavello Te guardi troppo peratunci Peratunci Non me l'ho toccato Peratunci Oh 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 Che è che? Oh 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 Il bianco mi ha fatto prendere Un colpo cosmico Il bianco Che ti ha ucciso? Il bianco E chi è il bianco? Il bianco Sono morto E son morto il reactor nel corridoio di reactor Decide il bianco Mi ha fatto prendere un colpo e mi ha ammazzato ma perché perché l'agenziana Perché tra tutti l'agenziana, no, ma io non muoio quasi mai ma perché Come è scritto? No, questi lo fanno apposta Questi timono, questi timono Ho vinto, ho vinto di nuovo, ho vinto di nuovo, io ho vinto di nuovo Ma perché cambi sempre colore? Sì Ma perché cambi sempre colore? È una tattica Dai, facciamo ancora una partita Sì Dai Bene, bene, bene Start Ok Ultima partita del giorno Ultima partita del giorno Poi vado a giocare a Fall Guys e vado a skillare Su, Fall Guys Quando sarà Anna ha quittato Sarà Anna Sarà Anna Sarà Anna Ma che razza di nome è? Sarà Anna Perché quando sarà sua figlia Sua figlia si chiamerà Anna Non guardi troppo le freddure tu Se mi vuoi sfidare con le freddure, cioè hai già perso, cioè Praticamente Hai già perso Se mi sfidi con le freddure Ok, dai, dai Dai Mannagissima Non me ne ero accorto No, Davide, sei morto Morto? Sono morto Sei morto? Sì Perché? Non lo so, sono morto in confetteria Ma che ti ammazza? Ma no, no, non sono morto Ma chi è? E' sospetto quello? Chi? Quello la Quello che ti inseguiva Di che colore è? Ehm Ma vai, vai a riparare, forza E come si fa? E non lo so Genziana 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 No, è che è una droga sto gioco Va bene No, più che altro io trovo una droga Fall Guys Cioè, non è che provoca dipendenza Però C'è E' bellissimo No, ma Come fa le persone a piacere Among Us? Cioè, Fall Guys è 300 volte meglio Ma io, vai, siamo in quattro Cioè, come fa a piacervi Among Us? Come fa? Cioè, sto Parlo con voi Come fa a piacervi Among Us? Che Fall Guys è la vita E Among Us è giù giù Ma non è vero Non sei tu vero? No, sei tu vero? No! Guarda per farti vedere la proposta sono io Vieni in caffè che David mi ha ucciso I tagli Dai, durante 30 secondi Diciamo un video da 20 minuti Ok, dai Faccio un piccolo taglio Comunque Allora Mi hai chiesto come Non sclerare su Fall Guys Allora Il metodo Personalmente Per non sclerare su Fall Guys È Praticamente Ironizzando un po' il gioco Cioè tipo Quando muori Eccola, sono morto Cioè tipo così Dove sei morto? Ma è su Fall Guys Quando Quando Per non sclerare Ah Io sono ancora vivo L'alancione L'alancione? L'alancione E perché lo accusi? Mi stai seguendo? Mmm Vediamo un po' Vediamo un po' Ah Mannaggia a te Che sta Era tanto buono Che faceva le tasks Mi ha ammazzato il Mi ha ammazzato il Mi ha ammazzato il 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 Va bene Dai direi che per oggi può andare Ma si dai No Ancora una Facciamone 5000 dai adesso ci vediamo dopo no ma dai sono arrivati sono arrivati just just io sono Matteo Renzi perché inseguivi in quel modo così strano caro arancione perché ero perché mi inseguivi in modo così strano azzurro 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 non sono entrambi sospetti sia l'arancione che l'azzurro però l'azzurro l'ho visto che si è fermato just sus allora subito ho votato vabbè io voto lui però sembrato un po tutti i sospetti ma io cosa ho fatto no io no però hai votato per primo ai soli quello che vota per primo però non sta votando stranamente ok io cosa ne è andato non è che sei tu 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 l'agenziano non sbaglia mai dai questa volta però ultima partita ok 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 però basta lo so che Among Us è una droga per te io mi drogo di Fall Guys non sono io mi drogo di più di Fall Guys non di Among Us perché ci sono quelli che si drogano di Fall Guys e quelli che si drogano di Among Us io sono uno che si droga di Fall Guys vai li ha fatto uscire no ma lui lo dovete vedere quando gioca a Fortnite vabbè vai vai entra in questa parte intanto c'è il giallo che mi stai seguendo è sicuramente lui yellow 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 era lui l'agenziano non sbaglia ok allora CMP ma no te l'ho già usato io ah ok CMP ZHF no ma l'agenziano cioè più forte di Lion e più forte di CiccioGamer messi insieme ok dai dai facciamo dato che te ne ero andato facciamo questa ok dai ci vediamo dopo ok si starta ok si gioca vai raga ok vai vai voglio vedere tutti i sus eh ma si è spento il telefono si è spento il telefono no perché io ah no no hax hax dai dai ma perché te ne sei andato eh mi ha fatto uscire aspetta un attimo eh aspetta un attimo che dai Davide entra dove entra nella mia intanto noi vediamo Davide ok intanto c'era Lime che era sus let's go raga ok ok allora io sono abituato su The Scaled però vediamo un po' questa è una roba diversa raga si ok ah è Polus non so neanche io come sti tasti allora ok entername sus però dai anche le altre mappe sono carine come faccio andare più dentro più bello troppo bello c'è il posto dove puoi buttare oh 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 è bianco 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 si tu ma ne sono io devo fare la tasta aspetta 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 un secondo io no ma è un labirinto Polus ma donna poi non ce ne non ce ne non ce ne ce ne ho visto non è che ti ho ecco ti annaggissima vabbè almeno mi hai facilitato le tasche ma qua c'è sicure di tipo che ti puoi vedere mi sono le cose ok come com'è ok uh troppo belle le tasche di Polus devo entrare in secchi ma non so come fare ah questa qua c'è anche nella mappa normale non so con scrivere niente non trovavo il pulsante di office guarda che sei sospetto così ha già votato chi hai votato il il ti fare dai dai ma l'ho già visto eh ah godo ma perché dai può bastare così dai per oggi finisce qui basta basta niente il video finisce qui spero vi sia piaciuto scrivete nei commenti se desiderate ancora portare Francesco dopo tre anni senza di lui lasciate un like iscrivetevi ci vediamo in un prossimo video ciao 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 ciao